L'Arezzo calcio femminile porta un punto dalla trasferta di La Spezia e così continua la fuga verso la Serie B. Un avvio shock per le ragazze a Maranto, dopo appena due minuti, Milqvist sfodera un diagonale che termina le spalle di Siesca dopo aver toccato il palo e 1-0 per le padrone di casa. Al ventiquattresimo ci pensa Ignisci a riportare il risultato in parità facendo entrare il pallone nell'angolo giusto della porta delle avversarie. La prima metà del match così si conclude con un gol a testa per le due squadre. Al cinquantatresimo la numero 18 Ligure prova a portare Lo Spezia in vantaggio ma ogni ambizione sfuma grazie allo scatto della difesa dell'Arezzo calcio femminile. Occasione nitida poi capita al sessantesimo sui piedi della retina Vicchiarello la quale calcia sopra la traversa una sorta di rigore in movimento. Il match si chiude così sull'1-1, un punto che comunque pesa molto per le ragazze a Maranto visto che la diretta concorrente per la promozione in Serie B, il Pinerolo, è stata sconfitta in trasferta dalla Lucchese per 2-0. Dopo la ventesima giornata di campionato adesso i punti di vantaggio sulla seconda sono ben 7 quando mancano 10 partite al termine della stagione. Il girone A della Serie C è dominato dunque dalle ragazze a Maranto che fino ad oggi hanno conquistato 50 punti frutto di 15 vittorie e 5 pareggi.